Si è insediato stamani il nuovo Consiglio Comunale di Marsala per il quinquennio 2020-2025. 22 dei 24 consiglieri eletti nei giorni 4 e 5 ottobre scorsi hanno preso possesso della carica istituzionale. Assieme a loro anche Mario Rodriguez in sostituzione del sindaco uscente Alberto Di Girolamo, unico assente per motivi di salute Andrea Marino che si insedierà nei prossimi giorni. A presiedere i lavori che successivamente hanno portato alla sua rielezione alla massima carica di Palazzo Setteaprile è stato Enzo Sturiano che nel suo intervento dopo la rielezione, oltre a ringraziare i suoi colleghi il sindaco e la giunta, ha spiccato la massima collaborazione tra le componenti istituzionali. Una delle parole che è stata ricorrente nella manifestazione di insediamento è stata proprio la parola raccordarsi, condivisione, condividere, confronto, perché sono quelle regole che stanno alla base di un vivere civile e soprattutto sono quelle regole che dovrebbero governare gli organi più importanti della nostra città. Se gli organi più importanti della nostra città non hanno questi concetti alla base del loro governo significa che nulla si può fare e nulla si farà. Quindi dal confronto, partendo soprattutto dalle opposizioni, perché le opposizioni hanno un ruolo importante e fondamentale, io l'ho sempre detto, il sale della democrazia sta proprio nell'avere un'opposizione attenta, costruttiva, produttiva, vigile. Allora lì ci saranno sicuramente buoni governi. Questo è quello che ci aspettiamo. Abbiamo anche una pattuglia di consiglieri di opposizione che sono abbastanza preparati. Ci sarà massima collaborazione, come abbiamo detto. Sicuramente in tutto questo, se sarà attuato, a trovarne giovamento sarà sicuramente la nostra amata città. È un'opposizione preparata e minima, perché naturalmente la maggioranza è di chi ha vinto queste elezioni. Il sindaco di Girolam ha scelto di non farne parte. Mi dispiace, onestamente mi dispiace, perché poteva essere quello, un modo per poter portare avanti tutte le iniziative in cui si è spese in questi anni, in cui credeva. Quindi una motivazione in più per difendere e far capire le ragioni anche di determinate scelte a questa amministrazione e a questo Consiglio Comunale.